Un'attività periodica, quella svolta all'interno delle carceri per vedere quella che è la situazione da un lato dei detenuti e dall'altra anche proprio delle strutture. Si parla in alcuni casi di sovraffollamento, in altri invece di strutture che ormai sono fatiscenti. Ieri l'ultima visita è stata quella al carcere di Pescara di San Donato. Fortunatamente a Pescara non c'è sovraffollamento, il carcere può avere 270 detenuti e ne ha 271, quindi siamo nella perfetta norma. Non è così in Abruzzo, dove vi sono carceri come quello di Sulmona, che ha 150 detenuti in più, ne ha 450, ne dovrebbe avere 300, o anche il carcere di Teramo. E quando c'è sovraffollamento la promiscuità genera sempre problemi non solo di qualità della vita, ma anche di garanzie e delle condizioni di sicurezza da parte del personale di Polizia Penitenziaria. Qui a Pescara c'è questo aspetto critico che mancano circa 20 agenti di Polizia, manca anche il personale amministrativo per la verità. Questo comporta naturalmente dei turni di lavoro particolarmente pesanti e stressanti per il personale, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che nel carcere ci sono i detenuti, ma ci sono anche i lavoratori senza colpa che lavorano lì e devono garantire la sicurezza dei cittadini e la custodia di queste persone che naturalmente devono essere rieducate mentre scontano la loro giusta pena.